L'allergia sociale, esplorando il fenomeno di evitare le relazioni interpersonali. L'essere umano è intrinsecamente sociale, ma per alcuni individui, l'idea di interagire con gli altri può scatenare una reazione emotiva intensa. Questo fenomeno, spesso definito come allergia sociale, rappresenta un aspetto complesso e psicologicamente interessante del comportamento umano. Le radici dell'allergia sociale L'allergia sociale può derivare da una varietà di fattori psicologici. Esperienze passate di tradimento, delusione o isolamento possono contribuire a una diffidenza generale verso le relazioni interpersonali. In alcuni casi, un'introversione pronunciata o l'ansia sociale possono alimentare questa reazione di evitamento. Il ruolo dell'ansia sociale L'ansia sociale gioca spesso un ruolo significativo nell'allergia sociale. La paura del giudizio, l'insicurezza e la preoccupazione costante di non essere all'altezza possono rendere le interazioni sociali estremamente stressanti. Di conseguenza, l'individuo potrebbe sviluppare meccanismi di difesa, come levitare attivamente situazioni sociali. Conseguenze sull'individuo L'allergia sociale può avere conseguenze significative sulla vita di chi ne soffre. La mancanza di connessioni sociali può contribuire a sentimenti di solitudine e isolamento, influenzando negativamente la salute mentale e il benessere emotivo. È importante esplorare le radici di questa avversione sociale per comprendere appieno il suo impatto sulla vita quotidiana. Approcci terapeutici Affrontare l'allergia sociale richiede un approccio personalizzato e la consapevolezza della sua complessità. La terapia cognitivo-comportamentale può essere un'opzione efficace, aiutando l'individuo a esplorare e modificare schemi di pensiero disfunzionali legati alle interazioni sociali. L'empatia e la comprensione da parte degli altri sono fondamentali nel sostenere il percorso verso una migliore gestione delle relazioni interpersonali. Sfide e opportunità Sebbene l'allergia sociale possa rappresentare una sfida significativa, è importante riconoscere che ogni individuo ha il potenziale per crescere e cambiare. L'affrontare questa avversione richiede tempo, impegno e supporto. Con il giusto sostegno psicologico, chi soffre di allergia sociale può esplorare gradualmente nuove modalità di interazione e costruire relazioni significative. In conclusione, l'allergia sociale è un fenomeno psicologico complesso che merita un'attenzione approfondita. Attraverso un approccio terapeutico centrato sull'individuo e un sostegno empatico, è possibile superare le sfide legate alle relazioni sociali, aprendo la strada a una vita più ricca di connessioni significative.